Prosegue lenta ma costante la discisa dei numeri legati agli effetti della pandemia nella regione Puglia. Anche il bollettino epidemiologico di oggi registra un nuovo calo dei pazienti ospedalizzati colpiti dal virus in forma non grave, passati da 610 a 595. Sono solo 31 invece le terapie intensive occupate rispetto alle 33 di domenica. I puglisi attualmente positivi al covid sono 79.320, quasi 350 in meno di ieri, effetto anche delle 2.000 nuove guarigioni in un solo giorno. Il bollettino riporta 1.537 nuovi casi di infezione registratisi in regione nelle ultime 24 ore a fronte di 16.574 tamponi analizzati. L'incidenza è del 9,2%. Ancora pesante il bilancio dei morti, 18 le persone colpite dal virus decedute. In provincia di Lecce il numero più alto di nuovi contagiati, ben 513, seguita dalla provincia di Bari con 381 e da quella di Foggia con 242. Poco più di un centinaio invece i nuovi casi rilevati nelle province di Taranto, Batte e Brindisi.